eccoci come al solito in diretta come tutti i giovedì sera durante la diretta durante la quale io rispondo alle vostre domande vi ricordo che ovviamente potete mandarmi le domande e potete solitamente anche mandarmi le prima della diretta via email indirizzo veramente nella descrizione e infocchiocciola marcochiavecchioli.it infatti adesso inizierò a rispondere alle domande che mi sono arrivate gli email questa settimana ho quattro domande a cui rispondere poi dopo volevo un attimo darvi un aggiornamento su una notizia piuttosto importante e poi passerò a rispondere alle domande che invece mi manderete in chat scrivetele via chat per chi dovesse seguire su Instagram su Instagram non potete mandarle le domande quindi se volete fare domande andate su YouTube dove nella chat potete fare le domande faccio solo una premessa ovvero non so se lo sapete ma sto facendo una cosa che praticamente io non ho mai fatto ovvero sto facendo uno sconto del 35% per chi volesse sponsorizzarmi ovvero volesse che io gli dessi visibilità sui miei canali social perché non l'ho mai fatto perché io al massimo ho fatto uno sconto del 10-15% forse qualche volta mi è scappato uno sconto del 20% ma questo mese solo per questo mese faccio uno sconto addirittura del 35% solo a gennaio perché in genere a gennaio c'è poco budget per la pubblicità perché i mesi finali dell'anno sono quelli che ne hanno di più e quindi io vengo incontro a chi ha poco budget e vuol farsi pubblicità in questo modo scrivetemi via email info.marcocavicchioli.it per sapere come posso darvi visibilità su tutti i miei vari canali per questo mese con il 35% di sconto partiamo dalla prima domanda che mi è arrivata via email è vero che i grossi miner a maggio 2024 faranno delle grosse vendite per rientrare con i costi? in realtà questa è una domanda diciamo così trabocchetto nel senso che la risposta in teoria sarebbe eh sì nel senso che nel momento in cui viene dimezzato il premio per i miner ad aprile e questi qua dovranno per forza di cose sostenere dei costi alti con degli incassi bassi e quindi probabilmente dovranno vendere il più possibile per rientrare dei costi ma attenzione però in realtà stanno staranno incassando circa la metà in realtà un po' di più della metà perché si incassano anche le ficche rimangono le stesse un po' più della metà rispetto a marzo ok? perché l'albing ci sarà ad aprile più o meno magari a metà aprile ecco quindi in realtà venderanno di meno cioè loro sì dovranno vendere in percentuale probabilmente venderanno di più ma in numero assoluto che è quello che conta venderanno meno bitcoin perché ne incasseranno di meno quindi nonostante la risposta sia sì a partire da maggio 2024 i miner probabilmente faranno grosse vendite per entrare con i costi in realtà per quanto riguarda il prezzo di bitcoin ne venderanno di meno rispetto a prima e quindi in realtà diminuirà l'offerta di bitcoin sui mercati questo è già capitato tutte le altre volte che ci sono stati gli albing anche se va detto che l'effetto sul prezzo dell'albing cioè del fatto che i miner vendono di meno perché incassano di meno dovrebbe in genere scusate in passato arrivato diversi mesi dopo non il mese successivo non il mese ancora dopo ma parecchi mesi dopo quindi nel corso del 2024 si dovrebbe vedere questo effetto seconda domanda esistono molte stable coin qual è il migliore exchange su cui si possono tradare quante più stable coin possibile ecco in realtà non è che ci siano degli exchange in cui sono tradabili tutte le stable coin spesso vengono fatte delle scelte io però vi do questo consiglio allora fatemi un attimo condividere coin market cap ecco dovreste vedere coin market cap in questo momento perfetto allora su coin market cap ci sono le criptovalute per categorie se andate sulle categorie e cercate c'è anche da qualche parte stable coin solo che sono tantissime io in genere faccio che fare una ricerca vabbè senti non lo trovo quindi facciamo stable coin eccole qua usdt stable coin prendo quelle su usdt quando su coin market cap avete l'elenco delle criptovalute potete cliccare su ognuna di queste criptovalute e poi andare su mercati per vedere quali sono gli exchange su cui vengono scambiate quindi usdt la maggior parte viene scambiata su binance su coinbase o su cracker poi magari posto che 10 righe magari facciamone visualizzare 50 ok x by bit gate gate punto io kucoin ovviamente anche curve su ethereum eccetera eccetera questo lo potete fare su tutte le criptovalute ok quindi vi interessa sapere dove potete scambiare usdc stessa cosa poi dopo cliccate su mercati poi magari posto che 10 ne prendete 50 e scoprite che usdc sei su binance su bybit ovviamente su unisbop e cube su okex vedete kraken però ad esempio dai no dai anche c'è un po' dappertutto mi sembra se non ricordo male vediamo mercati scusate ma ultimamente con i mercati è un po' più lento del solito ok quindi sono un po' lento a far vedere vedete dai c'è su binance su coinbase su kraken ok c'è più o meno tutto ce ne sono alcuni che invece sono meno disponibili tipo dovrebbe essere true usd che c'è sicuramente su binance però credo che non ci sia su molti exchange vedete quasi tutto binance ecco true usdt ad esempio vedete sembra che non ci sia su coinbase che non ci sia su kraken e quindi la maggior parte in realtà sono sono su binance ok quindi quello che vi volevo far vedere è che andatevi a fare voi le vostre ricerche su quali sono gli exchange su cui trovate le singole criptovalute non esiste nessun exchange che ce l'abbia tutte binance probabilmente è uno di quelli che ne ha più di tutte e anche per quanto riguarda le stable coin però abituatevi ad usare più exchange non usate un unico exchange anche perché se un exchange un giorno che dovete fare una transazione che ne so non va a problemi o è in manutenzione voi siete fermi quindi registratevi usate più exchange kraken è ottimo come alternativa a binance ma anche bybit quindi usate tutti quelli che volete e andate a fare le ricerche cripto per cripto terza domanda via email volevo la tua opinione sul fatto che questo ciclo di bitcoin possa essere simile a quello del 2016 2017 allora secondo me l'attuale ciclo non sarà simile a quello del 2016 o del 2017 perché perché il 2016 fu l'anno del secondo halving ok invece l'anno del quarto halving e questo il 2024 il 2016 difficilmente sarà simile al 2024 perché perché all'epoca si arrivava dal 2015 che era stato davvero pesantissimo il 2015 è stato il peggior anno di sempre per bitcoin invece noi arriviamo da un anno il 2023 che è stato molto positivo non positivo molto positivo se non ricordo male nel 2023 bitcoin è aumentato del 175% nulla a che fare con quel 2015 che fu veramente disastroso anzi vi dirò di più sembra che il 2023 soprattutto gli ultimi mesi l'andamento del prezzo del bitcoin è stato simile a quello del 2016 ok quindi potremmo addirittura essere in anticipo di un anno rispetto a quel ciclo quindi non avere l'halving nel 2016 e poi dopo la bull nel 2017 ma forse potremmo avere quest'anno già quest'anno sia l'halving questo è scontato ma anche la bull perché poi quest'anno c'è adesso tra poco dovrebbe esserci l'approvazione degli etf poi a marzo ci sarà il taglio dei tassi della fed probabilmente ad aprile ci sarà l'halving poi questi etf magari inizieranno ad avere successo e quindi inizieranno a dover i loro i gestori a dover comprare bitcoin dal mercato e immobilizzarli quindi questo 2024 potrebbe essere un anno estremamente interessante tant'è che per certi versi non completamente ma per certi versi fine 2023 è stato simile a fine 2016 io vi consiglio di tenere in particolare come punto di riferimento i 60.000 dollari nel senso che se il prezzo di bitcoin dovesse salire sopra i 60.000 dollari già nella prima metà del 2024 allora è possibile che ci sia una grossa bullera nella seconda metà del 2024 ok e quella è la chiave i 60.000 dollari che potrebbero essere raggiunti potrebbero anche non essere raggiunti ok però se il prezzo di bitcoin non dovesse riuscire ad arrivare a 60.000 dollari nella prima metà del 2024 allora probabilmente invece rientreremmo in un normale ciclo come quello ad esempio del 2020 2021 ok quindi 2024 2025 simile magari a 2020 2021 ultima domanda che mi è arrivata via email visto che hai vissuto in prima persona nel periodo del 2016 2017 mi sapresti dire qual è stato l'evento che ha permesso bitcoin di passare da 400 dollari inizio 2016 a circa 12.000 scusate 400 euro e 12.000 euro e più a fine 2017 e quindi in realtà a fine 2017 raggiunse un prezzo di quasi 20.000 dollari in euro non mi ricordo quanti erano all'epoca c'era una bella differenza tra euro e dollari io me lo ricordo abbastanza bene perché nel 2016 io avevo venduto tutti i miei bitcoin alla pari cioè avevo comprati a 600 dollari li ho venduti a 600 dollari e poi ho ricomprato nel 2017 però a 3.900 dollari vabbè comunque però comunque ho ricomprato me lo ricordo bene anche perché il 2017 è stato l'anno in cui io sono diventato un professionista dell'informazione e cripto lo avevo seguito tutto quell'anno lì non c'era stato nessun evento nessun singolo evento che avesse fatto decollare il prezzo di bitcoin fu una scalata diciamo così abbastanza costante adesso io vado di nuovo a prendere su CoinMarketCap perché voglio proprio farvi vedere questa cosa vi rifaccio la condivisione dello schermo per farvi vedere proprio in particolare non tanto il 2016 quanto il 2017 perché quell'anno la chiave fu il 2017 quindi dovreste vederlo ce l'avete sì ok prendiamo solamente il 2017 eccolo qua questo è il 2017 guardate che roba mettiamolo in forma logaritmica perché altrimenti non si capisce bene guardate la crescita fu continua non ci fu un evento che fece decollare diciamo subito che già qualcosa di molto interessante era accaduto tra fine 2016 vedete e inizio 2017 poi c'era stata una breve flessione ma aveva ripreso a salire a febbraio 2017 poi c'era stata un'altra flessione un po' più importante a marzo ma ad aprile aveva riniziato a salire un'altra flessione abbastanza importante a luglio poi aveva ripreso a salire un'altra flessione a settembre aveva ripreso a salire una piccola flessione a novembre e poi un altro aumento quindi stiamo parlando di uno due tre quattro cinque sei aumenti sei fasi di crescita consecutive intervallate da piccole discese quindi in altre parole come avete ben capito non ci fu nessun evento che fece decollare il prezzo di bitcoin fu una crescita continua attenzione perché la bolla dopo quel 2021 invece fu diversa perché ci fu una grande crescita iniziale fino ad aprile e poi una discesa importante ed una seconda crescita tra ottobre e novembre quindi fu diverso ancora diverso fu l'altra bolla nel 2013 quando invece ci fu una botta mostruosa a fine anno qualcosa veramente di pazzesco semplicemente pazzesco io ritengo che queste crescite siano banalmente dovute all'affetto ritardato dell'albing ok quindi l'albing che dà effetto dopo mesi nel 2016 l'albing fu a luglio come avete visto il la crescita inizio ad ottobre tra l'altro ottobre spesso è un mese in cui il prezzo di bitcoin sale ora prima di passare alle domande che mi state scrivendo via chat io volevo avvertirvi di una cosa molto importante ovvero oggi in realtà tra ieri e oggi praticamente quasi tutti i richiedenti nei confronti della SEC per quanto riguarda l'emissione di ETF su bitcoin spot negli Stati Uniti hanno presentato delle versioni aggiornate delle loro domande molto probabilmente si tratta delle versioni definitive cioè ad oggi allora tra un po' si chiude la giornata negli Stati Uniti fatemi vedere che ora è a Washington Washington perché la SEC è lì quindi a Washington sono le tre meno un quarto tra un po' quindi tra praticamente tre ore un quarto si chiude la giornata e quindi da quel punto in poi la SEC ha tutte le richieste per poterle approvare difficilmente le approverà già oggi perché ovviamente deve esaminarle la mia ipotesi è che se volessero fare le cose fatte bene l'approvazione potrebbero farla domani sera dopo la chiusura delle borse la chiusura delle borse avviene mi sembra alle 16 ora locale cioè di New York da noi se non sbaglio sono le 20 qualcosa del genere comunque domani sera dopo le 20 diciamo magari che ne so alle 21 22 ore italiane e se la SEC volesse fare le cose per bene potrebbe approvare gli ETF perché in questo modo non ci sarebbe la corsa degli emittenti andarli a listare perché tanto le borse sarebbero chiuse questi ETF vanno sulle borse e quindi avrebbero tempo sabato e domenica poi lo so che sabato e domenica in genere non si lavora ma secondo me sono già pronti per poter fare in modo di averli listati lunedì poi per carità non è detto che accada ok perché la SEC potrebbe anche decidere o di aspettare fino all'ultimo l'ultimo giorno buono e i mercoledì 10 oppure addirittura potrebbe persino c'è una piccola probabilità sembra del 10% circa che possa addirittura mettersi d'accordo con gli emittenti e prendersi ancora un po' di tempo quindi rinviare ancora una volta teoricamente non può perché per legge entro il 10 deve pronunciarsi però se ad esempio se il 10 dovesse avere essere costretti diciamo così a bocciarli ok in realtà il 10 cioè mercoledì ne scade uno solo quindi piuttosto che bocciarlo la SEC potrebbe dire sentite noi se dovessimo dirlo ora dovessimo emetterla il giudizio ora lo bocceremmo ma però se ci dato ancora un po' più di tempo mettiamo a posto le ultime cose e lo e lo approviamo quindi può darsi che magari ci sia ancora uno uno slittamento però insomma dovrebbe essere poca roba anche perché poi la SEC è già stata denunciata una volta da Grayscale per aver commesso un errore proprio con con questo tipo di ETF e ha perso il tribunale ha dato ragione a Grayscale quindi io sono dell'idea che se fa la furba anche sto giro la SEC si becca un'altra denuncia e se si becca un'altra denuncia e la perde il presidente Gary Gensner secondo me lo fanno fuori cioè nel senso lo licenziano pensate che ci sono addirittura delle delle iniziative in Parlamento negli Stati Uniti d'America per licenziare Gary Gensner cioè è proprio lì e lì per essere licenziato quindi io non me lo vedo a prendere iniziative particolari rischiose che potrebbero portare al suo licenziamento passiamo invece alle domande che mi state facendo via chat cosa ne pensi di Aurora Aurora non lo conosco proprio sai cosa ti dico ma io non l'ho mai sentito nominare quindi non so rispondere andrò poi ad approfondire e anche Wormall non lo conosco sono tutti progetti minori ok non sono tra quelli principali allora vediamo questa domanda in un'ora bitcoin è sceso da quasi 46.000 a 40.000 non credi che se anche l'etf viene approvato i manipolatori buttano giù sul mercato per poi ricomprare a prezzi più convenienti tipo 30.000 dollari io ho l'idea che quella di ieri sia stata una vendita no siano state vendite le famose vendite per ragioni fiscali cioè quelli che a dicembre non hanno venduto per evitare di pagare tasse cioè di avere tasse nel 2023 e che non aspettavano altro che un qualsiasi motivo per vendere a inizio 2024 non hanno venduto i primi due giorni perché il prezzo sembrava stesse salendo ancora state che il 2 è salito fino a 2 gennaio è salito fino a 45.000 dollari appena hanno visto che iniziava a scendere hanno venduto però non sono stati tanti quindi secondo me queste vendite hanno pesato pochissimo io mi aspettavo che scendesse molto di più in realtà non è nemmeno arrivato a 40.000 dollari è arrivato a 41.000 dollari quindi secondo me si sono esaurite cioè quelle quelle vendite per ragioni fiscali si sono esaurite ieri in breve tempo relativamente in breve tempo tant'è che poi oggi è risalito ed è tornato addirittura a 44.000 dollari quindi c'è chi ha già anche ricomprato anche perché magari poi chi vende ricompra oppure qualcuno che invece vuol fare affari per la questione di tf eccetera io non credo che siano se ci sono dei manipolatori siano in grado di buttare giù il prezzo a 30.000 dollari cioè per buttare giù il prezzo di bitcoin a 30.000 dollari in questo momento serve davvero un enorme sforzo io non credo che nessuno lo faccia anche perché c'è il rischio di fare quello sforzo in perdita quindi io non me lo vedo dovete sapere che ci sono due soglie in questo momento che sono importanti la prima sono proprio i 40.000 dollari che hanno retto ieri e la seconda io pensavo fossero i 35.000 dollari invece no sono i 37.000 dollari quindi le due soglie chiave sono i 40.000 dollari e i 37.000 dollari quindi hai voglia ad arrivare a 30.000 dollari perché per arrivare a 30.000 dollari deve prima perdere la soglia e il supporto dei 40.000 dollari puoi perdere quello di 37 e poi quello di 35 quindi lo vedo la vedo un po' dura però sinceramente con la notizia dell'approvazione dell'etf e magari qualche sell the news ci potrebbe stare però magari fa come ieri cioè ieri ci sono state vendite anche relativamente importanti ma non è che è sceso molto perché non sono state così tante io mi aspetto che magari se c'è un sell the news domani mettiamo caso che domani esce la notizia dell'approvazione degli etf di nuovo la discesa potrebbe non essere particolarmente significativa poi magari mi sbaglio e magari va sotto i 40.000 dollari magari va a 37 o a 35 io in questo momento 30.000 lo vedo davvero davvero tanto lontano perché sotto i 35.000 dollari cioè per far andare il prezzo di bitcoin sotto i 35.000 dollari c'è veramente il rischio di dover vendere molto in perdita quindi mica conviene ok anche perché diciamocelo chiaramente se questi etf funzionano e il prezzo magari va a 50.000 dollari cioè comprare oggi potrebbe convenire ok poi per carità comprare a 44.000 e magari vendere a 50.000 su bitcoin non è che sia un grande affare quindi una discesina a 40.000 o magari anche più sotto a 37 ci potrebbe assolutamente stare anche perché poi tra la notizia dell'approvazione degli etf e la prima vera notizia positiva che dovrebbe essere a marzo quella del taglio dei tassi della fed e passeranno due mesi anzi più di due mesi anche se c'è un altro aspetto che io vi invito a considerare ovvero ipotizziamo che ci sia il sell the news con dopo la notizia dell'approvazione degli etf come spesso capita ok e ipotizziamo che magari non sia niente di che che il prezzo vada a 40.000 o 37.000 dollari mettiamo caso che lunedì questi etf arrivano sui mercati perché sono già pronti ok e sono già lì pronti per emettere non è che ci metteranno tanto secondo me a metterli sul mercato mettiamo caso che già lunedì o martedì questi la richiesta per questi etf vada si è elevata e si scopra che hanno avuto successo immediato a quel punto secondo me il prezzo di bitcoin risalirebbe subito quindi io non è che mi aspetto chissà quale ritracciamento e soprattutto non è che mi aspetto un ritracciamento lungo a meno che non ci siano novità che poi sapete qua le novità ci sono da un momento all'altro e quindi magari se il prezzo scende e poi capita esce qualche altra notizia negativa eccetera allora è tutto un altro discorso quindi ricordatevi che io non faccio previsioni perché non sono in grado di fare previsioni io vi racconto dei possibili scenari uno di quelli possibili è una nuova correzione nemmeno un ritracciamento una nuova correzione con per il sell the news dell'approvazione dell'etf seguita magari da una risalita se gli etf arrivano sui mercati e hanno successo invece il secondo scenario è quello di un vero e proprio ritracciamento nel caso in cui escono notizie negative però in questo momento non ci sono una domanda su Binance rimetterà la carta Visa o bisogna proprio dirottare verso altri exchange allora io ritengo che prima o poi probabilmente la rimetterà però non so quanto ci sarà da aspettare quindi il mio consiglio è in questo momento usate altre carte fatevi ce ne sono ok a me in molti hanno considerato quella di Bybit io non l'ho fatta però comunque probabilmente ne avessi bisogno farei quella quindi fatevi delle altre carte tanto ce ne sono alcune che sono gratuite quella di Binance volendo era gratuita e quindi insomma nessuno li vieta di farle di usarle per un po' e poi magari se un domani Binance la rimette rimettete i fondi su Binance però io credo che difficilmente Binance lascerà ok anche perché in alcune parti del mondo ce l'hanno ancora e in Europa che non ce l'hanno quindi si metteranno a posto Binance come prima o poi si metterà a posto su tutto su tutta la linea sarà credo completamente compliance magari non ai livelli di Coinbase che addirittura quotato in borsa ma vicino e quindi bisognerà solo aspettare però nel frattempo dai su su CoinGecko si trovano le coin con tutti i relativi exchange sì stessa cosa di CoinMarketCap tra l'altro dovete sapere una cosa che ultimamente diciamo negli ultimi due mesi CoinGecko secondo me funziona meglio a volte su CoinMarketCap i dati sono un po' più aggiornati però ultimamente è un po' lento CoinMarketCap quindi io un po' di tempo fa ero ripassato a CoinMarketCap adesso sto riusando molto CoinGecko sono i due migliori che ci siano ok giusta domanda perché c'è tutto questo buzz riguardo all'ETF americano su Bitcoin in Europa esistono già fisici cioè già degli ETF spot sì è verissimo in Europa esistono già degli ETF su Bitcoin spot ma perché tutto questo buzz per dei prodotti che negli Stati Uniti non ci sono ma in Europa ci sono già il motivo è presto detto perché c'è di mezzo BlackRock cioè gli ETF che sono stati emessi in Europa non hanno nessun grande sponsor questi qua che dovrebbero venire vesti a breve sul mercato americano hanno come sponsor BlackRock Fidelity cioè stiamo parlando BlackRock è il più grande gestore patrimoniale del mondo e Fidelity è nei primi quattro ok quindi stiamo parlando di soggetti di scusate di società finanziarie che hanno un parco clienti enorme con enormi capitali quando BlackRock emette l'ETF non lo fa per venderlo su mercato lo fa soprattutto per piazzarlo ai propri clienti perché comunque BlackRock ci guadagna quindi potete immaginare che se BlackRock riuscisse a piazzare questo ETF l'ETF ovviamente è sul Nasdaq ok farò sa di cosa perché deve essere scambiabile liberamente da tutti ma comunque quello che conta non è chi va sul Nasdaq a comprarsi questo ETF ma i clienti di BlackRock che si fanno convince da BlackRock a comprare questi ETF quindi la cosa importante non è l'ETF in sé ma sono BlackRock e Fidelity sono loro che potrebbero fare la differenza tant'è che non so se lo sapete ma questi ETF subito risposte esistono già anche in America sulla borsa di Toronto in Canada tra l'altro Toronto è a pochissimi chilometri dagli Stati Uniti d'America e sul lago mi sembra Iri da una parte non sono sponda c'è Toronto e dall'altra c'è gli Stati Uniti d'America quindi insomma perché gli Stati Uniti non sono andati a prendersi questi ETF sulla borsa di Toronto o li hanno presi ma poco perché non c'è di mezzo BlackRock e Fidelity la chiave è questa non è l'ETF in sé andiamo avanti facciamo finta che Craig Wright vinca la causa a marzo cosa succederà a Bitcoin Luigi dice la mia paura non è Wright ma un giudice corrotto visto che la grande finanza vuole affossare Bitcoin allora io sinceramente faccio un po' fatica a far finta che Craig Wright vinca la causa vi spiego perché molto banalmente Craig Wright l'ha già persa questa causa una volta ok perché lui aveva denunciato Coinbase e altri per violazione del diritto d'autore questa causa Craig Wright l'ha già persa a febbraio c'è stata la sentenza poi però questi altri si sono riuniti in questo organismo chiamato Coppa hanno contro denunciato Wright e Wright per poter arrivare a cercare di difendersi se ne è uscito con questa affermazione ha detto che ha trovato in un comodino proprio adesso poche settimane fa una chiavetta USB in cui ci sono nuove prove che dimostrano che lui è stato cioè stiamo parlando di avvenimenti del 2008 2009 lui fino a febbraio 2013 non era riuscito a dimostrare niente adesso ha trovato una chiavetta ok quindi io secondo me nemmeno i giudici se la bevono questa storia anche perché ricordatevi che d'altra parte ci sono Coinbase ci sono dei colossi io la vedo davvero estremamente difficile nel caso in cui vincesse probabilmente faranno ricorso perché comunque non è che è finita lì magari un giudice ci sta che possa sbagliare ma se fanno ricorso poi magari deve sbagliare anche l'altro giudice ok e tra l'altro questa causa c'è in Inghilterra negli Stati Uniti America io poi sinceramente in realtà sono dell'idea che la finanza tradizionale si stia interessando a Bitcoin non gli vuole fare la guerra cioè BlackRock e Fidelity emettono un ETF su Bitcoin per poterlo piazzare ai propri clienti pensate davvero ma voi avete idea di chi sono BlackRock e Fidelity ma soprattutto BlackRock pensate davvero che BlackRock accetti qualcuno che è un una persona qualunque diciamo così più o meno come CreditVright possa affossarlo ma non ce la farà mai non ce la farà mai e siamo tutti ottimisti per il mercato per il futuro ma il mercato sale e poi scende il mercato fa così cioè non è che sale all'infinito però attenzione perché non è tanto il punto non è tanto che sale che scende questo è ovvio ma quanto sale quanto scende perché se sale molto scende poco è molto interessante se denunciassi il fatto che mi hanno rubato le password di tutti gli exchange rubandomi i fondi inviandoli su wallet non custodia se non ho mai dichiarato mi crederebbero come funziona non so rispondere però in effetti se tu denunci e quindi hai un foglio ok ufficiale in cui tu dichiari che non hai più i fondi cripto perché te li hanno rubati se questa cosa è vera ok io credo che non ci siano problemi nel senso che se non dichiari non dovresti avere problemi sul passato non lo so ok però da ora in poi certo che se però è falsa attenzione perché poi ti aprono in due ok andiamo avanti hai opinioni o conoscenze in merito a Coti che già parlici con Cardano per esempio a Stablecoin Jed e che ora vuole lanciare un layer 2 su ETH sì io ho già sentito parlare diverse volte di Coti io però sono un po' scettico sulle Stablecoin mi spiego dopo il caso Terra UST dell'anno scorso e dato che noi abbiamo almeno due Stablecoin che sono più che sufficienti USDT USDC che funzionano benissimo più DAI che è algoritmica ed è decentralizzata e funziona benissimo diciamocelo chiaramente mica c'è bisogno di altre Stablecoin cioè chi si inventa nuove Stablecoin al giorno d'oggi perché lo fa? un conto se lo fa Paypal cioè qualcuno che di fatto si sa che emette dei token a fronte di dollari effettivamente messi da parte ok? un conto che ne so è TrueUSD che Binance decide di usare al posto di Boost perché Boost non lo usa più in realtà Binance ha deciso di usare TUSD e un altro che si chiama FUSD che si chiama qualcosa del genere quindi in quel caso ci sta ma quando qualcuno si inventa una Stablecoin così mi viene in mente sempre UST quindi fate attenzione come su Tron che hanno lanciato USDD e poi praticamente non riesce mai ad avere il valore di un dollaro sempre sotto che valenza dai al report di Matrix Matrixport si chiama sul discorso approvazione TF è un report mirato per fare un po' di vero c'è qualcosa di serio e quello uscito ieri che ha fatto innescato la discesa secondo me è artefatto cioè io la vedo come ricordatevi che dietro Matrixport c'è tra i suoi cofondatori un sostenitore di Bitcoin Cash e ieri era nell'aria un ritracciamento perché c'era la questione delle vendite inizio gennaio tenete presente che molto spesso inizio gennaio ci sono delle vendite magari non il primo non il 2 ok però ad esempio nel 2017 ci furono il 4 ieri nel 2024 ci sono state il 3 quindi era nell'aria un ritracciamento secondo me qualcuno ha provato a buttare giù un po' i prezzi per comprare io la vedo sinceramente così quindi secondo me quel report era non dico completamente inventato ma mirato secondo me hai azzeccato l'aggettivo io ritengo quel report mirato ok andiamo avanti ho acquistato 5.000 euro di bitcoin nel 2022 ho dichiarato nel quadro rv come capitale iniziale 5.000 euro e capitale al 31 12 e come capitale al 31 12 relativo valore a quella data se nel 2023 ho venduto o scusate ho acquistato altri 1.000 euro nel quadro rv dell'anno successivo come capitale iniziale dovrò indicare sempre 5.000 oppure 6.000 allora che io sappia il capitale iniziale della dichiarazione di un anno deve equivalere al capitale finale dichiarato nell'anno prima quindi se tu nella dichiarazione del 2022 cioè quella fatta nel 2023 hai dichiarato come capitale il relativo valore dei bitcoin che hai comprato al 31 12 ed è corretto tu nella dichiarazione dell'anno prossimo cioè quella relativa al 2023 come capitale iniziale dovrai dichiarare la stessa identica cifra quindi non conta che hai comprato 1.000 euro nell'anno successivo cioè quello conta per la dichiarazione del capitale finale del 2023 è importante che i due capitali coincidano perché tu devi dire che sei partito da lì per ottenere un altro risultato a fine anno ok andiamo avanti quando avvengono queste liquidità di massa quelle liquidazioni di massa quella di ieri 800 milioni di dollari dove vanno a finire tutti questi soldi e attenzione quando parliamo di liquidazione di massa non parliamo di vendite spot cioè di gente che vende ok no stiamo parlando le liquidazioni avvengono su le posizioni in leva cioè che cosa significa che quando tu o sui future quando tu hai aperto una posizione long nel caso di ieri era una posizione long cioè posizioni realsiste in leva nel caso in cui il prezzo scenda fino a farti perdere teoricamente più del capitale che hai investito e l'exchange liquida la tua posizione in modo da impedirti di perdere più di quello che hai investito al netto della leva perché la leva è un prestito se non facessero così se si va sotto tu rischi di dover di perdere non solo quello che ci hai messo ma anche quello che ti sei fatto prestare quindi sarebbe un disastro quindi a chi vanno a finire quei soldi a chi te li ha a chi li ha prestati cioè quando ci sono delle posizioni in leva la leva è un prestito ok c'è qualcuno che presta dei soldi a qualcun altro quando queste posizioni vengono liquidate il prestito viene restituito ok e gli asset vengono venduti e per quello che poi si scende cioè che quando si misca una discesa poi questa discesa va avanti perché vengono venduti in automatico con gli asset al prezzo di mercato ok quindi a chi vanno quegli asset a chi li compra quindi ieri qualcuno ha fatto affari perché c'è qualcuno adesso io non so se erano proprio 800 milioni di dollari mi sembrava di meno comunque mi sembravano 600 milioni comunque fa poco la differenza mettiamo che fossero 800 milioni quegli 800 milioni di dollari di posizione liquidate in parte sono stati dati indietro i soldi presi in prestito in parte molto minore sono andati a chi ha comprato gli asset che sono stati liquidati in automatico sono stati venduti quindi sono stati rassorbiti nei mercati per quello che non so se avete visto la discesa di ieri è partita lenta poi è andata giù di colpo perché quando hanno iniziato le liquidazioni sono scattate in automatico le vendite automatiche e lì probabilmente non c'era sufficiente domanda per assorbirla poi però è arrivata ci ha messo pochissimo e nel giro di pochissimo la domanda è arrivata e infatti poi il prezzo è risalito ah ecco segnalo giustamente che anche a me molti hanno consigliato come carta di credit debit o crypto nexo le due che mi hanno consigliato di più a me sono Bybit e nexo tra l'altro nexo non è un vero exchange Bybit si nexo secondo me vale la pena farlo come carta a prescindere probabilmente quindi date la segnale perché è vero allora guardando al passato prima di un halving di bitcoin c'è sempre stato un grosso ritracciamento pensi possa succedere anche questa volta allora attenzione perché nel 2020 il ritracciamento che ci fu fu dovuto a un cigno nero all'inizio della pandemia e quindi non è ripetibile nel senso potrebbe essere un cigno nero ok però è un po' difficile pensarlo prima del 2016 sì ci fu ritracciamento ma il grosso ritracciamento che ci fu nel 2016 si dovette a quel terribile anno che fu il 2015 quindi anche in quel caso è un evento relativamente eccezionale nel senso che ci sono sempre stati bear market su bitcoin continuano ad esserci ma quello del 2015 fu davvero brutto 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 e il bear market c'è già stato quindi io in questo momento sinceramente non vedo che ci eventi che possano creare innescare grossi ritracciamenti del prezzo bitcoin fino a 30.000 dollari però attenzione possono arrivare i cigni neri chi lo sa magari c'è un cigno nero magari i dati che ne so sull'inflazione negli Stati Uniti che escono tra una decina di giorni sono negativi magari salta completamente la previsione dei mercati per quanto riguarda il taglio dei tassi ad aprile ed ecco che è croda tutto ora vi faccio vedere questo dato perché secondo me è davvero davvero importante eccolo qua ok questo è una pagina del CME in cui vengono visualizzate le probabilità secondo i mercati della politica monetaria della Fed in questo momento il range di tassi è da 525 a 550 secondo i mercati ci sarebbe il 93% di possibilità che al 31 gennaio rimangono invariati e addirittura il 6,7% che vengono diminuiti di 25 punti base non c'è probabilità che aumentino guardate cosa capita a marzo del 2024 a marzo scusate al 20 marzo danno al 60% la probabilità di un taglio dei tassi di 25 punti e addirittura al 4% di probabilità questo è irrilevante di un taglio di 50 punti se questo 60% dovesse crollare cioè il posto che avere 60-35 avessimo 35-60 e beh ecco che a quel punto e quello potrebbe essere un cigno nero cioè qualcosa di completamente inaspettato perché in questo momento diciamociò chiaramente la lotta all'inflazione negli Stati Uniti di America sta funzionando magari è lenta però sta funzionando è un po' difficile c'è da dire che c'è il prezzo del petrolio che si sta alzando un po' però la Fed usa come punto di riferimento non l'inflazione generale ma l'inflazione core quindi al netto del petrolio quindi potrebbe esserci però dovrebbe davvero essere qualcosa di inaspettato ok poi le cose hanno aspettato capita proiezioni prezzo dopo 18 mesi all'alvin secondo le statistiche passate il problema è che secondo le statistiche passate ci sono previsioni abbastanza ottimistiche in particolare quella di che dice 500 mila dollari secondo me è davvero tanto alto lui l'ha già sbagliata nel 2021 che diceva 100 mila e quindi forse l'ha sbagliata di nuovo però c'è una cosa io a proposito voglio dire una cosa ovvero lo scorso ciclo ok quello con il massimo a circa 70 mila dollari ha fatto segnare un per 3,5 rispetto al massimo precedente quello del 2017 20 mila dollari non è stato molto è stato basso decisamente basso io ritengo che nel 2021 effettivamente il prezzo avrebbe potuto arrivare a 100 mila dollari poi per colpa della Cina non ci è arrivato quindi avrebbe dovuto fare un per 5 quindi io mi aspetterei che forse durante questo ciclo se la Cina non si oppone e la Cina in questo momento non sembra che si opponga però non l'ha mai detto potrebbe recuperare quindi fare ben più di per 3,5 magari fa il per 5 ok da 70 mila ok quindi magari potrebbe arrivare a 350 mila poi magari invece ci sono problemi ok guardate queste non sono previsioni correttamente Antonello le ha chiamate proiezioni ricordatevi che una proiezione può essere probabile o improbabile semplicemente prende il passato lo proietta nel futuro come ha fatto Plan B nel 2021 e poi la proiezione si è rivelata falsa ok perché non aveva previsto che c'era il ban cinese quindi la proiezione a mio parere potrebbe essere tra 200 e 350 mila dollari però per l'appunto è solo una proiezione e non una provvisione le proiezioni a dire il vero spesso sono sbagliate ci sarebbe la fila per denunciare i furti se fosse come si diceva prima certo ricordatevi che si denunciano i furti se sono effettivamente avvenuti ok perché se denunciate un furto che non è avvenuto sono cavoli se vi beccano ok ok Bitget è un'altra di quelle soluzioni che mi sono state suggerite per quanto riguarda le carte però se non sbaglio da noi la carta Bitget non c'è ancora dovrebbe arrivare a breve ok 6 6 io ho sentito diverse persone che ne parlavano in maniera non posso dire che ne parlassero bene non posso dire che ne parlassero male ma ne parlavano in modo interessate forse è un progetto da seguire io non lo so bene in effetti vedi l'ipotesi è proprio che 6 abbia delle potenzialità io non so dirvi se veramente ha delle potenzialità ma è uno di quei progetti che vi consiglio di tenere d'occhio ci sono alcuni progetti non sono molti che vale la pena tenere d'occhio per vedere che cosa capita e 6 è da tenere d'occhio anche perché Solana Album l'ha fatto tanto mi sembra che abbia fatto più 700% nel 2023 quindi non so se possa continuare ok quindi andatevi a guardare 6 seguitelo perché è interessante quando hai comprato il tuo primo bitcoin uno intero no ok comunque i miei primi satoshi li comprai nel 2013 l'anno della prima grande bolla poi però li ho venduti nel 2016 quindi tra l'altro io lo definisco quella vendita di bitcoin nel 2016 la definisco il più grande errore della mia vita poi ho dovuto ricomprare a un prezzo più di 6 volte più alto come l'hai scoperto beh io me lo ricordo benissimo perché l'ho scoperto grazie ad un articolo del Sole 24 Ore di aprile 2013 intitolato prezzo di bitcoin salito a 100 dollari c'è il rischio di una bolla 100 dollari ok quell'anno il prezzo arrivò fino a 1100 dollari se è una whale no perché io ho comprato meno di bitcoin e quindi non sono a per niente una whale anzi tra l'altro poi io non faccio nemmeno operazioni sul mercato se non piccole scommessine quindi proprio sono la persona meno diciamo così in grado di condizionare i mercati che ci siano imposta del 2 per 1000 non 2% ok che solo in Italia si poteva inventare la si applica sul totale del prezzo cripto dichiarato nella dichiarazione di redditi fatta l'anno precedente sì cioè tu quando dichiari il valore al 3112 delle cripto che possiedi devi pagare il 2 per 1000 di imposta di bollo assurda folle anzi questo è un invito a non dichiarare perché perché io tutti gli anni devo pagare il 2 per 1000 è una cosa proprio sono le classiche cose schifose italiane guardate noi in Italia di cose schifose ne abbiamo tante oramai siamo talmente abituati che nemmeno ci stupiamo più però veramente questa è stata una cosa brutta 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 in Germania se tu tieni criptovalute per più di 12 mesi e poi le vendi non paghi le tasse sulle plus valenze in Italia paghi addirittura una tassa di possesso del 2 per 1000 proprio guardate cioè la politica italiana fa di tutto per far scappare le persone fa venire davvero voglia di emigrare in qualche altro paese poi non lo facciamo perché non lo facciamo però fa venire veramente voglia di andarsene lo staking su Binance è profittevole viene considerata come plus valenza e fini fiscali allora il commercialista che ho ospitato lo studio scusate lo studio commercialisti che ho ospitato diverse volte nei miei video dice che lo staking di per sé non sembra essere considerato una plus valenza e fini fiscali finché non lo vendi cioè se tu metti in staking ethereum e ricevi ethereum gli ethereum che ricevi non sono tassati ma se li vendi in cambio di stable coin o euro sì e la vendita come al solito questo è quello che mi diceva lo studio commercialista che ho avuto ospiti diverse volte ma ci sta ha perfettamente senso ok anche perché in genere quando tu soprattutto se voi fate stacking su un vostro nodo di proprietà gli ethereum li ricevete su quello stesso nodo ok quindi non sono semplicemente aumentate il numero degli ethereum ah sì mondo convenienza accetta cripto se vince dal sito ah che bella cosa e andrò poi a verificare se è vero perché questa sarebbe una bellissima notizia ok mondo convenienza accetta cripto andiamo avanti i token frappate sono sicuri o si rischia di non tornare più indietro no non sono sicuri vi spiego perché quando viene messo un token frappato su una blockchain quel token rappresenta un asset presente su un'altra blockchain allora se il token frappato rappresenta un asset sulla stessa blockchain basta andare a controllare gli smart contra se sono fatti bene sicuro ma se rappresenta un token su un'altra blockchain non c'è modo di verificare che per forza di cose non possano essere emessi token frappati senza sufficiente collaterale cioè diventano praticamente centralizzati nel senso che c'è un qualcuno che fa quelle operazioni poi queste operazioni possono essere trasparenti quindi se sono fatti trasparenti uno può andare a controllare ok quindi ad esempio sullo smart contract di vbtc vrap btc su ethereum si può andare a controllare quanti vrap bitcoin sono stati emessi uno va a controllare i loro wallet bitcoin quanti ce ne sono immobilizzati e scopre che sono uguali ok quindi però questo non si però quei wallet ok quelli su bitcoin i gestori li possono utilizzare quei bitcoin li possono utilizzare su quei wallet su quegli indirizzi quindi purtroppo non sono sicuri al 100% fate attenzione ok non holdateli per un lungo periodo usateli se dovete holdare bitcoin holdate bitcoin non vrap bitcoin i vrap di bitcoin li potete usare che ne so per nella defi su ethereum dove non potete usare bitcoin ma usate vrap bitcoin quindi riteneteli dei token che hanno sempre un certo grado di rischio il rischio è maggiore quanto meno affidabile è l'emittente dei token vrap e secondo te quanti t cioè quanti trilioni quanti migliaia di miliardi di dollari di market cap arriverà l'intera asset class crypto in questo ciclo non lo so questa però è una bella domanda perché pone un interrogativo non è che c'è un tetto cioè ricordiamoci che stiamo parlando di cifre molto elevate in questo momento siamo a 1,7 trilioni cioè 1700 miliardi di dollari ora andiamo a prendere scusate vado a prendere la capitalizzazione di mercato dell'oro gold market cap siamo a 13,8 trilioni quindi se le criptovalute moltiplicassero per fatemi fare il conto facciamo 13 diviso 1,7 scusate 13 diviso 1,7 fa 7,6 volte ecco se la market attuale market cap si moltiplicasse per 7 arriverebbe totale quindi non solo di bitcoin ma di tutto il mondo cripto compresa le stable coin si arriverebbe ai livelli del dell'oro ci sta ok però se si moltiplicasse per 10 cioè andasse a superare in maniera significativa con l'oro ha senso e intendo sul medio breve periodo ok ovvio che sul lunghissimo termine tra 10 e 20 anni ci sta ma che ne so già l'anno prossimo è possibile in effetti è un po' difficile da immaginare scusate mi sono accorto solo adesso abbiamo pochissimi minuti ci sono un sacco di domande vedo cosa riesco a fare passiamo a quella dopo ah nexo è diventato un vero e proprio exchange ma se non sbaglio nexo fa da broker e non da exchange cioè ti consente di fare il cambio ma il cambio non è fatto con ordini interni ma pescando da altri exchange se non sbaglio fa come conio fa broker comunque va benissimo nexo ultimamente secondo me è una di piattaforme che vale la pena essere presa in conversazione soprattutto per la loro carta cosa ne pensi dell'eventuale etf su ethereum ci sarebbe la corsa dopo la privazione eventuale quella di bitcoin io penso che se approvano etf su bitcoin prima o poi cioè etf su bitcoin spot negli Stati Uniti America prima o poi approveranno anche quello su ethereum e anche quello su ethereum sarà molto interessante non so se lo farà blackrock perché poi il punto chiave qua è quello ok e ci provo a dire che magari lo fa anche blackrock perché chi è interessato a investire in bitcoin magari qualcosa vuol metterla anche su ethereum quindi dopo l'approvazione di quella su bitcoin io mi aspetto anche quella su ethereum e basta nel senso che io non mi aspetto che vengano approvati etf spot negli Stati Uniti su criptovalute che non siano bitcoin ed ethereum a che punto è la situazione e la situazione ftx per quanto riguarda i rimborsi e l'idea è quella di riaprire addirittura cioè di riaprire ftx ok se riescono a riaprire ftx praticamente le persone dovrebbero semplicemente poter ritirare quello che ancora rimane non tutto una parte che però nel frattempo si è apprezzata quindi io credo che in questo momento l'ipotesi principale su cui stiano lavorando è la riapertura e non il rimborso bisognerà aspettare di capire se a riapriranno o no per capire se invece effettueranno i rimborzi se aprono uno si ritroverà lì una parte ok magari non è una cosa così migliata Michael Saylor che continua a comprare come se non ci fosse un domani facendo anche debiti non è un po' pericoloso per il mercato uno solo sì anche perché sconcordo anche perché che senso a continuare a comprarci questo ha iniziato a comprare quando Bitcoin valeva 12 mila dollari Michael Saylor MicroStrategy ok però tra l'altro non so se lo sapete ma Saylor non è più il CEO di MicroStrategy è solamente il presidente il CEO e un altro quindi non è un uomo solo è una società ma comunque non cambia ok è pericoloso un uomo solo è pericoloso una società sola ok sì anche perché questi magari un domani potrebbero essere costretti a vendere magari a vendere anche in massa c'è da dire che ci stanno talmente guadagnando che non hanno bisogno di vendere ok mi sembra che siano sopra di 2 miliardi e mezzo non 2 milioni 2 miliardi e mezzo quindi in questo momento è pericoloso se scende se scende sì è pericoloso ok e Michael Saylor è già un ETF ok andiamo avanti con questa storia del 2 per 1000 può essere più esplicativo e banalmente in Italia c'è l'obbligo di dichiarare quante criptovalute possiedi o meglio il controvalore in euro al 3112 di tutte le criptovalute che possiedi ma su quella dichiarazione viene calcolato il 2 per 1000 di imposto di bollo che tu devi pagare devi versare proprio per fare il versamento allo Stato devi dare allo Stato il 2 per 1000 in euro delle tue criptovalute una cosa di una schifezza veramente mostruosa purtroppo è così di Inactive cosa ne pensi ne ho sentito parlare ne sento parlare probabilmente è un progetto che potrebbe essere interessante da seguire io non so fino a che punto possa essere interessante però sì è uno di quei progetti che probabilmente vale la pena magari approfondire o magari specularci un po' sopra non lo scarterei ecco vedi confermo mondo convenienza accetta cripto è presente il logo nel footer alla pagina tra i metodi di pagamento bellissimo e adesso che lo so magari ci faccio un pensierino ok anche io non lo sapevo andrò sicuramente a controllare e magari magari ci faccio anche qualche spesa perché quando uno ha qualche magari un qualche stable coin gli vuole spendere senza spendere le stable coin convertendole in euro c'è sempre un costo spenderle direttamente meglio ci sono news sull'apertura fx ftx fino a qualche mesetto fa lo davano con un'opzione probabile poi si sono fermati non so perché guardate che è un casino la questione ftx quindi è talmente complicato che questi qua ci provano a riaprire ovviamente non gli ex proprietari gli ex gestori ok ma il curatore fatigli fallimentare però in questo momento sono un po' piantati io sono un po' scettico sulla possibilità che riescono a riaprire innanzitutto per riaprire devono assicurarsi che i creditori accettino che venga restituito una parte poi probabilmente se ai creditori gli dici senti piuttosto che aspettare degli anni a ricevere dollari ti ridiamo subito una parte delle tue cripto dato che sono salite i creditori probabilmente dicono di sì però io ho paura che sia un buco nell'acqua cioè voi vi fidereste a usare ftx? io no io non lo usavo nemmeno prima perché ho sempre avuto qualche dubbio sul loro tasso di crescita però io la vedo un po' difficile cioè quando si iniziano ad acquisire un po' di feedback la gente dirà no investire in oro e fare comprabendite se devi dichiarare per i fini fiscali non lo so per loro non lo so i metalli vengono trattati con le criptolute no perché in Italia c'è proprio una legge sulle criptovalute quindi i metalli sono un'altra cosa perché la maggior parte dei wallet come anche Metamass non supporta la rete bitcoin perché costa costa un casino la rete bitcoin quindi in genere molti wallet ethereum usano ethereum tra l'altro trust wallet che è un wallet nato per ethereum supporta anche bitcoin e dovrebbero più che altro supportare l'e-network piuttosto che bitcoin quindi capisci ci sta cioè è complicato aggiungere alla rete bitcoin ad un wallet ethereum e poi magari non lo usa nessuno perché le fines sono troppo alte vedi la carta nexo fornisce liquidità prestito senza vendere le proprie cripto che fanno la garanzia sì questo lo ricordo molto interessante poi per carità i prestiti li dovete restituire ma se volete un prestito potete dare le cripto in garanzia e nexo vi fa credito ok molto interessante potresti spiegare meglio cosa è cosa comporta un etf su bitcoin purtroppo non c'è tempo abbiamo già sforato questa è una domanda che richiede una risposta lunga senti se c'hai voglia fammela via email info chiocciolamarcocavicchioli punto di perché io me la dimentico di certo risponderei come prima domanda la prossima volta al prossimo giorno di sera perché mi ci vuole un attimo non c'ho tempo che si dice sulla criptovaluta FET è occhio a FET perché le criptovalute sull'intelligenza artificiale secondo me non è detto che ce la raccontino giusto come si paga l'imposta di bollo avviene in automatico no bisogna fare un F24 mi sembra oppure ci sono delle altre nello stesso modo con cui paghi le tasse ok per noi partiti IVA è l'F24 appena mi do convenienza scopre che deve pagare il 2 per 1000 smetterà di accettare cripto si a spenda mondo convenienza scoprirà che deve pagare 2 per 1000 sulle cripto smetterà di accettare in realtà perché secondo me le vendono subito però so che ci sono società che stanno comprando i crediti dei clienti FTX sì i crediti dei clienti ma è rilevante ok cioè a FTX non frega niente di questo probabilmente ok sì 6 come dicevo prima è un progetto da seguire Rollbit no in questo momento non mi viene in mente qualcosa che ho già sentito ma non mi viene in mente direi basta così tanto abbiamo già anche sforato ricordatevi giovedì prossimo dalle 20 e 30 alle 21 e 30 potete di nuovo farmi le altre domande in diretta però mandatele prima via email info un saluto a tutti ci vediamo ciao ciao